L'Aquila si tinge di rosa, vetrine colorate in centro storico e in periferia, piene di palloncini per attendere la carovana rosa che toccherà ancora una volta la città dell'Aquila nella giornata di lunedì. Dopo la tappa, Castel di Sangro Campofelice, con la partenza prevista dal capoluogo e un giro turistico tra le vie del centro, i commercianti hanno risposto all'appello del comitato di tappa colorando le loro attività e c'è molto entusiasmo per quella che in qualche modo viene vista come una ripartenza attraverso lo sport e un grande evento. È un bellissimo evento e speriamo che ci siano anche altri eventi di tale rilevanza e poi è bello vedere il centro che si addobba di colori, di situazioni, non solo al discorso commerciale ma quanto proprio per la città e per sé che abbiamo bisogno, specialmente in questo momento, di una situazione di libertà, di aggregazione maggiore. Cerchiamo con questo evento di far rivenire un po' di gente in centro storico, siamo tutti contentissimi, abbiamo organizzato tramite noi commercianti a mettere i palloncini, a mettere i vari cartelloni che annunciano questo evento e speriamo che sia insomma un evento di contendenza, di positività per questa città. Ovviamente non possiamo che essere contenti di questa cosa, una grande vetrina per la città che finalmente potrà far vedere che oggettivamente è tornata alla normalità. Quindi sia dal punto di vista delle attività commerciali sia dal punto di vista personale perché vado in bicicletta oggettivamente io non posso che essere contento ma si respira una bella aria, c'è tutta una fibrillazione. Tra l'altro poi l'Aquila torna a essere partenza di tappa dopo tanti anni quindi ovviamente siamo tutti molto molto felici. All'evento prenderanno parte i bandieraide quattro quarti, associazione sportiva aquilana ma ci saranno anche gli sbandieratori della città dell'Aquila con il loro tradizionale spettacolo sul piazzale della Basilica di Colle Maggio. Lo spettacolo sarà inoltre animato dalla Corale Gran Sasso, coro storico della città scelto perché festeggia i 70 anni dalla sua fondazione. Il villaggio del Giro sarà allestito in piazza Duomo, la partenza alle 13.40 da Corso Federico II, le ammiraglie saranno parcheggiate lungo via Tagliacozzo, da Lissimo Veranno, lungo via Castello e il Corso Stretto per raggiungere lo start dove partirà il giro turistico lungo il corso, via Le Colle Maggio. Attraverserà poi le principali vie cittadine prima di raggiungere la strada statale 17 dove è previsto l'inizio della gara competitiva che approderà poi a Foligno. Un appuntamento molto importante e sempre atteso quello del Giro d'Italia che in un momento difficile per il paese rappresenta un segnale di ripartenza e un'iniezione di fiducia.